Buongiorno, sono Davide, il responsabile del negozio P-Quadro di City Life a Milano. Sono qui per presentarvi questo zaino organizzato della linea Cellion di P-Quadro. Si tratta di uno zaino pratico e leggero, realizzato in resistente tessuto tecnico e impreziosito da dettagli in pelle. Segno particolare della linea Cellion è il profilo azzurro che ne sottolinea il design, sempre ispirato alla filosofia P-Quadro, in cui i dettagli non sono semplici elementi decorativi, ma nascondono soluzioni funzionali fatte per chi viaggia quotidianamente per lavoro ed ha bisogno di accessori che siano allo stesso tempo pratici ed eleganti. Il comparto principale è fornito di due tasche imbottite, dedicate al trasporto in tutta sicurezza di un PC da 15,6 pollici ed un iPad. Un sistema di cinghie vi permette di regolare lo spessore laterale dello zaino. Lo schienale e gli spallacci sono imbottiti per garantire il massimo comfort e una fascia permette l'aggancio al trolley. Questo zaino può essere abbinato a un trolley e a un'ampia gamma di agende e portablocchi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a visitare il nostro sito e i numerosi negozi in Italia e all'estero.